Innovazione sostenibile in Abruzzo, convergenze nella filiera dell'idrogeno. E' questo il titolo del convegno organizzato dal Polo Inoltre e del Polo di Innovazione Abruzzo Italy, nonché patrocinato dal Comune di Pescara. Un evento interamente dedicato alla filiera dell'idrogeno in Abruzzo, al fine di creare un'opportunità di confronto tra tutti i protagonisti dello scenario tecnologico, innovativo, ambientale, presenti nella Regione. Oggi l'iniziativa dei Polo di Innovazione Inoltre e Abruzzo Italy vuole riunire i protagonisti della filiera dell'idrogeno in Abruzzo, perché l'idrogeno non è più un sogno, non è una chimera, ma è una concreta e reale opportunità di sviluppo regionale che determinerà evidentemente poi un conseguente sviluppo economico, sviluppo locale, occupazionale, rispetto ai temi della sostenibilità e soprattutto anche con la grande rilevanza sociale, vista la possibilità della creazione dei posti di lavoro che ha attraverso la produzione di idrogeno, l'indotto, la valorizzazione del patrimonio industriale, regionale. La tecnologia sta andando velocemente, esistono già mezzi alimentati a idrogeno nel nostro settore, quindi stiamo parlando di autobus, stiamo parlando di track, stiamo parlando di carrelli elevatori, quindi stiamo parlando di treni. L'idrogeno rende il mezzo autonomo rispetto a quello che è il mezzo elettrico. Il mezzo elettrico ha bisogno di una stazione di ricarica, il mezzo di idrogeno ha bisogno di una stazione di rifornimento come se fosse un combustibile qualunque, quindi un gas, un metano, un GPL oppure una benzina o un gasolio. Quindi l'idrogeno ti permette di avere la lunga percorrenza con una certa autonomia.